È puntiglio quello di ridurre le tasse? È puntiglio quello di ridurre e cancellare una tassa iniqua? Se è puntiglio siamo assolutamente puntigliosi dalla parte degli italiani, dalla parte di tutte quelle famiglie, l'80% che abita nella casa di proprietà, siamo assolutamente puntigliosi dalla parte dei consumatori, siamo assolutamente puntigliosi dalla parte dei commercianti che non hanno gli occhi per piangere, siamo assolutamente puntigliosi e saremo sempre di più puntigliosi nell'attuare il programma di governo.